Quando sono le 21.43 siamo al quarto luminario organizzato, in questo caso dalla polisportiva giovanile Scandale, infatti giocano a calcio, siamo sopra in via Aldomoro più o meno, sopra i campi di calcio. E anche qui il luminario, le frasche che bruciano, è tanta buona musica, è mangiare. Abbiamo coperto tutti i quattro luminari principali, mi dicono che c'è un altro luminario del quale sapevo anche, quello privato di Tarino Sellaro, e ci perdoneranno, mi perdoneranno gli amici di Corazzo, ma non riesco proprio ad arrivare a Corazzo, quindi poi magari anche loro saranno organizzati e vedremo qualche immagine, qualche video di Corazzo in rete. Qui c'è la sorpresa del Sosia, nonché cantante amico mio di Rino Gaetano. Mentre siamo nei pressi della casa di Attilio Riolo, ne approfittiamo per fargli gli auguri, perché due giorni fa mi sembra che è nata una bambina. Ed ecco il mago Xavier. Per il luminario scandale per quest'anno è tutto, buon San Giuseppe, buona festa del papà, ci vediamo al prossimo video.